Ciao, mi chiamo Nicolò e sono cofondatore di GAMINDO, GAMINDO è la prima piattaforma che permette alle persone di donare senza spendere, giocando ai videogiochi. Io sono laureato, tolto una tesi di 700 pagine e poi abbiamo creato un team, siamo andati tre mesi in Silicon Valley, vinto il premio nazionale innovazione e ora siamo qui a Web Summit a raccontare questa nostra piattaforma con cui vogliamo permettere alle persone di salvare il mondo reale e non solo quello delle principesse, giocando a dei videogiochi, che sono videogiochi brandizzati, quindi la pubblicità non è in banner pop up o cose fastidiose, ma è integrata direttamente nel gioco, l'utente gioca, giocando riceve delle gemme che hanno un valore dato dalle aziende, che si promuovono dentro la piattaforma, dona queste gemme a vari progetti e quindi dona senza spendere, giocando con i videogiochi, capito?